È una grossa partita da parte vostra, siete una squadra che solitamente gioca bene, quest'oggi è anche un espluato 5-1, secondo le previsioni migliori credo. Sì, oggi non mi aspettavo un risultato così netto, però durante la settimana ci eravamo preparati ad andare a presciare alti, cercare di farli sbagliare, siamo stati bravi e finalmente oggi abbiamo anche concretizzato davanti quello che creiamo. Ho tenuto contro il Campobasso che era più sopra di voi di qualche punto, quindi credo che valga il doppio proprio perché avete rosicchiato tre punti ai rosso-blu. Sì, molto importante, ci siamo avvicinati a loro, così bene o male, adesso non so le altre squadre cosa hanno fatto, però è stata una bella boccata d'ossigeno questi tre punti contro una squadra che più o meno erano ai nostri punti. Una bella iniezione di fiducia, c'è tutto un girone da disputare, vedendo il Romagna Centro di quest'oggi a mio avviso è il Campobasso. Nel Campobasso dico che se questo finisce direttamente nei play-out, ma ovviamente la cosa ti riguarda relativamente e per me la cosa che ti riguarda è che il Romagna Centro se si dovesse confermare così sicuramente si salverà direttamente. Sì, noi cerchiamo sempre di giocare così, il problema del girone d'andata è che non concretizzavamo, se continuiamo così secondo me bene o male ci riusciamo a salvare. Anche perché i cinque gol a parte avete calciato tantissimo verso la porta del Campobasso. Sì, sì, questo è vero, tutte le partite, bene o male abbiamo sempre un sacco di occasioni, però oggi ci è andata bene. È una lotta davvero agguerrita questa per evitare i play-out, alla fine qualcuno ovviamente ci dovrà andare e chi vedi sfavorita? Ecco c'è la Civitanovese che ci sembra abbastanza in difficoltà. Sì, ho visto domenica scorsa che noi non abbiamo giocato, che hanno preso 7 gol da San Marino, li ho visti un po' in difficoltà, però siamo tutti lì e adesso noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare i più punti possibili. Va bene, allora in bocca al lupo per la lotta per evitare i play-out, se c'è qualche avversario che preferiresti se dovessi fare i play-out, ovviamente facendo gli scongiuri del caso per il Romagna centro, non mi rispondere il Campobasso perché è troppo scontato dopo la partita. Spero proprio nessuno, spero proprio di evitarli e non ne ho idea, proprio spero di evitarli e basta.